Tra i 1.360 profughi afghani fuggiti da Kabul, 460 sono minori, tra cui 320 sotto i 12 anni, 6 i ragazzi non accompagnati. Attualmente in Abruzzo sono ospitati 217 bambini. 850 il totale dei rifugiati giunti nel centro di prima accoglienza e smistamento allestito a fine agosto dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile nell'interporto di Avezzano. Il comune di Montorio Avomano è stato il primo ad accogliere circa 46 profughi, ma è tutta la provincia teramana che è mobilitata per assicurare agli afghani sostegno e abitazioni. Teramo, comune capoluogo, si sta muovendo in questa direzione. Dobbiamo capire quante e quali saranno le persone che resteranno sul territorio della provincia di Teramo. Al momento sono ospitate in alcune strutture in diretto contatto con la protezione civile. E' chiaro che quindi questo è il primo aspetto. Noi utilizzeremo il nostro sistema SAI, SPRAR, però insomma abbiamo la necessità di capire quante saranno appunto queste famiglie che dovranno essere accolte nell'ambito di un sistema che è quello dello SPRAR che consente un'accoglienza diffusa, una integrazione, anche tenuto conto appunto della tipologia anche di accoglienza che riguarda delle figure che hanno lo status di rifugiati politici. L'accoglienza migliore per questa tipologia di famiglie è proprio quella degli appartamenti perché comunque è necessario intanto ospitare le famiglie nel loro insieme, nel loro complesso, un'accoglienza diffusa che appunto faciliti anche e soprattutto l'integrazione. Diciamo siamo ancora in una situazione di emergenziale, di gestione emergenziale, ma ci stiamo attrezzando appunto come comuni con il coordinamento ovviamente della prefettura e di tutti gli attori istituzionali per poter definire un'accoglienza che sia la più adeguata possibile per le famiglie afghane. Intanto l'associazione Casa del Popolo di Teramo ha iniziato una raccolta di beni essenziali per tutte le persone in fuga dalla guerra in Afghanistan e rifugiate nella nostra provincia. I beni che verranno raccolti nella sede di via Nazario Sauro 52 a Teramo saranno prodotti per l'igiene personale, farmaci da banco, intimo nuovo da uomo, donna e bambino, trolley e valigie in buone condizioni.